47.000 venditori, un giro d'affari di 149 milioni di euro all'anno. Sono i numeri delle vendite porta a porta in Lombardia. Antonello Marzio. Integratori alimentari e cosmetici sono i prodotti più gettonati dalle donne. Gli uomini preferiscono magari un cibo particolare, ma non disprezzano creme anti-invecchiamento per viso e corpo. Merce di qualità che arriva direttamente a casa tramite vendita diretta a domicilio. Un mestiere, quello dei venditori porta a porta, che non tramonta mai. Solo la Lombardia, con 47.000 venditori, il 22% del totale, genera affari per 149 milioni di euro all'anno. Secondo i dati Avedisco, l'associazione che li rappresenta. È un'attività che può interessare e interessa sicuramente gli studenti, quindi per poter arrotondare, per avere qualche risorsa in più, ma interessa storicamente anche le donne. Poi anche persone che hanno bisogno di ricollocarsi e quindi è un'attività che può essere molto valida anche per loro. Gli operatori incassano con le provvigioni, i clienti stabiliscono un rapporto di fiducia con una persona. Prima di tutto che ti fa testare anche i prodotti, te li racconta, te li fa un attimo assaggiare, per cui poi alla fine tu sei invogliato a comprare. Dunque in piena era internet e commercio online, buona dialettica e presenza fisica rimangono qualità irrinunciabili. Il consiglio personalizzato è proprio quello che nell'acquisto online classico non c'è.